www.feyyaz.tv E' bello. Amore. ma te la mangi no? la metti solo sul piatto ah no ma lei è brutta la no? dai gliela nelle catena no sta pezzo ah no la dava un po' attriscia quella ci metteva un po' d'acqua un po' di banana lei è attriscia pure eh no adesso c'è il gas e mangia? stai mettendo l'aria e non piangere? ebbè ebbè guardate come se il formaggio e la polenta non basta non basta guardate ecco la lì per medio e due decine a te non è venuta a far sigillino grazie e buona mangi della mia lato io ottenevo il vetro quindi il rato ecco 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 qua ma non puoi un altro po' di succo? ecco 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 tutta roba casale c'è qua ciao ciao saluta eh saluta no saluta qualcuno e fa così col dito dai eh saluta qualcuno eh no eh è sofferta eh allora vai pulisci ma non stai in me no non stai in me no non stai in me e dopo l'acqua io e non stai in suga nemmeno tiè mettici la cottina aprite la cottina ah ma ma sempre in mezzo stai eh perchè stai in mezzo eh vatino in mezzo eh guarda un po' questo ma dai che sbagli la musica stai vatino ma vatino ma non la c'è no tu vedi questa tomba che sceglie non la c'è 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 io mi non la c'è vedi quals'ic?", qui c'era larendo che la cosa va va ecco ma vedi lo di al Grazie a tutti